Salve a tutti, oggi parlerò del secondo turno tra Logalbo Santo contro Cortese Gerardo. L'apertura, come ben sappiamo, è la numero 90. E qui finalmente viene utilizzata la variante che io preferisco. La 6-11, la più forte. 26-21, cambio. Poi 3-6, 28-23 per il bianco, che è la principale. 6-11, 29-26, si attacca. Il nero, di nuovo, cerca di prendere il pezzo, però il bianco riesce a difenderlo del tutto. Ora, la mossa migliore per il nero è la faela, 12-16. 5-10, qui sono tutte mosse teoriche fino a questo momento. Adesso la 11-14, ma volendo c'è anche questa qui, che non è scritta in nessun libro. E 11-14, 31-28 per il bianco, fino a qui ancora siamo in completa teoria. E qui il bianco fa 21-18, che è un'imprecisione, anche una mossa debole. Infatti la principale era la 32-28. Poi si continuava così, e da qui il bianco trovava una pari. Però dopo questa, o per dimenticanza, ma non credo, o forse il bianco voleva tentare qualcosa di più, fa 21-18. Ora il nero si ritrova a passare, il bianco sceglie questa via, 14-11. Qua il nero gioca la 4-8. Ovviamente per dare il cambio alla 19, per far rimanere bloccata la 22, in modo che la 21, giungendo a dama, possa attaccarla. Così, però diciamo che banalmente, qua invece di 4-8, poteva andare tranquillamente a fare dama, senza perdere tempo. Quindi, 4-8, 11-7, 25-21, 7-3, 25-29, e 3-7. Qui il nero ha un enorme vantaggio, ha proprio abbastanza da poterlo far vincere. 29-26, poi viene fatta la 7-11. Qua il nero prova a fare la 26-21, attaccando la 22. Il bianco difende. E qui il nero fa la mossa e la partita. 12-15. Con questo il nero già, diciamo, si porta in un gran vantaggio. Qui il bianco non può attaccare, per esempio, con la 14-11. Perché qui si ritroverebbe incastrato. Vabbè che ci avrebbe questa. Però non andrebbe molto lontano. Perché infatti il nero sta per fare la seconda dama. Qua, molto banalmente, il nero porta il suo pezzo via. Qua il bianco non può fare questa. Perché dopo questa qui si ritroverebbe a dover fare per forza questa qui. O anche quest'altra. Quindi sarebbe costretto a oscillare qua, in questo modo. Quindi questa non va bene. Se attacca da questo punto, si ritroverebbe a dover stare qui all'angolo, con due pezzi bloccati. E con il nero che sta facendo la seconda e probabilmente anche la terza dama. E perderebbe la partita il bianco. Se attacca da questo lato, cioè questo, e nello stesso modo il bianco si ritroverebbe all'angolo. O anche se muove questa, andrebbe tranquillamente ad attaccare. Anzi, forse qui è meglio non attaccare. Sarebbe meglio prima giocare questa. Quindi sarebbe questa qui. E poi con calma si vince. E in questa posizione, infatti, il bianco gioca 32-28. Qua il nero attacca. Il bianco fa questo sacrificio. E si va a prendere il pezzo. Da qui il nero fa 26-22. E qui il bianco getta la spugna. Vediamo subito il perché il bianco qua si arrende. Vediamo come poteva continuare la partita. Qua il bianco avrebbe messo la 12-15 per far passare la 28. E creare la seconda dama per la pari. Poi il nero avrebbe giocato questa. E qui il bianco non avrebbe potuto fare niente perché mettiamo caso spostasse questa. Qui il nero attacca di continuo. E poi prendere questa posizione dove attacca sia la 15 che la 14. E il bianco sarebbe costretto a perdere un pezzo. Se invece di spostarla la vuole prima scortare. Qua c'è prima 31-27. Impedendo al bianco di avanzare con la 20. E qui. Anche se si muove qua a questo punto. Anzi qua è proprio totalmente persa. Se invece si muove qui perde il pezzo e basta. Bene, per questo video è tutto. Qui abbiamo imparato che è importante seguire le linee principali. Almeno quando sei con un colore svantaggioso. Infatti questa è una 2n. Qua bastava solo fare la 32-28 e giocare le principali per poter pareggiare. Anche se si doveva tentare qualcosa in più. Forse con questa non era la partita giusta. Perché qua proprio la comanda è il nero. Per questo video quindi è tutto. E noi ci vediamo alla prossima. E noi ci vediamo alla prossima. Grazie.